ciao bellezze eccoci tornato in nuovo video in questo video sono in compagnia dell'assistente saluta buonasera alta la voce buonasera sentire vogliamo mostrarvi insieme la plastificatrice che ho acquistato stamattina alla lidl fortunatamente l'ho trovata e dallo scatolo si può già vedere com'è fatta vi leggo un po quello che c'è scritto è che ossia plastifica paga freddo la dimensione massima è a4 ha un ingresso pellicola automatico un interruttore giurevole per regolare lo spessore della pellicola che il tempo di scaldamento rapido è massimo 2 minuti sono 350 watt 3 anni di garanzia e dice che è facile da usare senza sostanze nocive durata d'estate insomma la marca è la solita di lidl quindi sta qui office e niente adesso andiamo ad aprirla e a fare una prova allora all'interno all'interno lo scatolo troviamo la plastificatrice che è bianca tutte quante sono bianche ben imballata che andremo a provare a breve il luibetto di istruzioni in varie lingue compreso l'italiano e infine dei fogli per plastificare e ci sono aspettate che non ci sono scritte le misure ma voglio mostrarvele ci sono in varie misure ci sono grandi a quattro a cinque a piccini pizzo che vanno questi qua vedi ci va patente ma la vede prima ti vuoi classificare nemmeno l'altra identità attento ho qualcosa di speciale nel nostro caso amore tipo come questi come bigliettini da visita anche ad esempio per plastificarli sulle istruzioni essenzialmente ci riporta un po' l'installazione l'avvertenza la sicurezza i dati tecnici la funzione di antiblocco la pulizia la conservazione lo smaltimento insomma tutto quello che possiamo possiamo dirci sull'apparicchio praticamente dato che io mi scoccio il legge praticamente a rischio e pericolo mio andiamo a andiamo ad aprire la spina è una classica presa italiana quindi nessun problema e appunto abbiamo lo spazio per far entrare appunto i fogli e ci riporta le indicazioni da quattro a cinque ok perfetto cioè la freccia di qui abbiamo appunto un po' di carte in più tanto per non cambiare e abbiamo appunto l'accensione e poi cold e freddo facciamo a caldo facciamo a caldo noi sì facciamo a caldo povero aspetta ho alcune cose per plastificarli ovviamente in questo caso dato che devo girare il video su l'agenda di tiger le modifiche andrò a fare alcune cose per l'agenda di tiger e alcune cose per il mio ragazzo che devi rompere il ca che ho quindi ci vediamo tra poco allora siamo pronti ho un foglio qui piccolino che penso non basti quindi casomai andrò a prendere uno più grande e questi qui sono quelli che sono usciti in dotazione prima abbiamo un po' di cose tra cui questi qui che sono degli orsetti di carta e questi qui che è un foglio che ho tagliato in varie parti della Lidl che vi ho mostrato qualche tempo fa è un set di carte poi il mio ragazzo deve plastificare un bel po' di bigliettini che io ho fatto io anni e anni fa quanti anni te l'ho fatta? è un bigliettino da visita allora proviamo qui vediamo se ci entrano cosicché da sperucchiare aspetta non ci devi fare fare l'aria aspetta quando la tagli si scolva? non andiamo al passiamo il troppo aspetta che tengo ecco non ci scolgo niente ci danno pure le cose penso un e due e basta e se c'è te lo metto allora vi facciamo un altro foglio non ti preoccupare ti la dico del prossimo e lo dico e fino a qua che stiamo qui spazi qua eeeh faccio dai un altro set aspetta no 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 lascia sale così ah ma non vuoi esprimare il foglio ma non vuoi esprimare si perché comunque lo devo buttare metto così o metti l'altro di così e vanno dire un altro qua a te di lui prontamo mettiamo qua no a cinque sta andando l'orsetto si è spostato inizia oh 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 che carino si è lucidissimo ah una filetta non è da tu non è da niente non ti è cancellato nulla no a cinque non è da tu non è da tu non è da tu non è da tu una volta che abbiamo plastificato le nostre cose andiamo a ritagliarle non è da tu non è da tu non è da tu non è da tu no a cinque non è da tu non è da tu questa è quella in serie all'interno della mia appunto agenda ho intenzione di plastificarli quindi essenzialmente vado a prendere il foglio che andrò a decorare di dicembre questo l'abbiamo fatto insieme con lo scotch in un video se vi ricordate e l'effetto più o meno è molto simile ovviamente questo è più leggero quindi vado a prendere all'interno un foglio questo invece è il decoro col tattoo dove ho fatto il video e vado a segnarmi i fori così però poi andranno sistemati e se volete vedere il plan with me di dicembre mi raccomando iscrivetevi ecco qui come vedete vanno davvero bene questa è la plastificatrice che adesso è spinta quindi è bella calda che siccome fa freddo e bello avere questo calduccio sotto le mani e io vi invito a iscrivervi a spolliciare quindi sul video vi è piaciuto a condividerlo a commentare insomma fate un po' quel che vuole di questo video e nulla iscrivetevi e vi ricordo che pubblico i video il lunedì e il giovedì alle ore 14 ciò Ciao!